ieri sera ho pianto mi sembra che ci sia un po lo stigma anche del piangere soprattutto da adulti come se fosse una cosa da bambini o da deboli io penso invece che se proviamo delle emozioni molto forti tutti dovremmo concederci un bel pianto il piangere è un'autoregolazione delle nostre emozioni quando siamo stanchi arrabbiati stressati magari anche felici quando si accumula troppa roba invece di tenercela dentro e magari soffrire di più secondo me è un bel pianto liberatorio fa benissimo a tutti infatti stamattina mi sento un po più lucida so cosa devo fare invece fino a ieri sera avevo la testa annebbiata perché questo periodo di burnout mi sta veramente offuscando qualsiasi cognizione mentale se avete mai provato il burnout sapete di cosa sto parlando non riuscivo assolutamente a concentrarmi mentre stamattina mi sento veramente molto più chiara e limpida quindi se mi avete bisogno anche se vi vergognate fammi vedere dagli altri nascondeteli da qualche parte e piangete per favore perché è veramente una grande liberazione e non una vergogna è una grande liberazione e piangete per favore per favore è una grande liberazione e piangete per favore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché fino a quando non è cominciato il congresso tu non sapessi. Che invece al servizio delle potenze europee compaiono spesso nel 2300, non saprei a questo punto dire se siano anche loro una componente di questa diplomazia o se sia un aspetto degli affari genovesi che funziona. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.